Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco, vetture usate. Si tratta, come vedete, di questa Audi Q5 ed è un 2000 di cilindrata, turbodiesel, 190 cavalli, cambio S-Tronic, allestimento business dell'anno 2017. È una vettura appartenuta ad un solo proprietario, conosciuto tra l'altro perché è il nostro cliente da svariati anni, è stata acquistata presso il nostro punto vendita ed è stata seguita come manutenzione presso il nostro service diretto Audi. Quindi, manutenzione certificata Audi, di conseguenza, chilometri certificati su questa vettura, li vedremo più avanti nel video, sia i chilometri sia la manutenzione sono i due parametri più importanti da sapere con precisione quando andiamo a vedere una vettura usata. E da queste immagini anche andiamo ad osservare la carrozzeria esterna. Intanto di questo bel colore grigio scuro metallizzato che è veramente bello, brillante, lucido, non ci sono ammaccature, se vogliamo dire qualche piccolezza dall'utilizzo giornaliero di vettura, ma veramente impercettibili. Esteticamente, esternamente, la vettura risulta veramente bellissima, sia, torno a dire, di verniciatura brillante, sia di tutte le rifiniture, dalle cromature ai vetri, a tutte le rifiniture verniciate. E andiamo adesso a vedere proprio lo specifico. E quindi partiamo a vedere il nostro frontale. Guardate la mascherina. Le parti satinate, le parti verniciate lucide, sempre belle, lucide, brillanti, targhettina identificativa delle quattro ruote motrici, perché questa vettura è quattro ruote motrici, quindi è il top di gamma della Q5 di quegli anni, ritorno a dire dell'anno 2017. Abbiamo poi, vedete, tutte in basso le rifiniture cromate e satinate, belle lucide, e guardate poi tra l'altro il faro. Faro completamente a LED, con luci diurne a LED, anabbaglianti e abbaglianti. Guardate la plastica, perfetta. Questa praticamente si trasforma in sicurezza di guida in fase notturna, perché quando accendiamo i nostri fari funzionano praticamente al 100%. Abbiamo i suoi cerchi in lega originali da 17 pollici, abbinati alle sue gomme estive, sempre con un ottimo battistrada, quindi ancora tutte da sfruttare. Abbiamo poi, nella parte posteriore della nostra vettura, i vetri scuri, abbinati ai suoi rasa vetri cromati e ai mancorrenti, sempre cromati. Il tutto bellissimo, lucido, brillante. Il vetro scuro lo ritroviamo anche sul portellone posteriore, fari posteriori, anche questi sono a LED, e sul paraurti, sempre posteriore, troviamo i suoi sensori di parcheggio. E a questo punto siamo anche all'interno del nostro abitacolo, che è praticamente impeccabile, perfetto, bello e pulito. Andiamo a vedere i particolari. Guardate il cruscotto, senza graffi, senza usure, bello, lucido, come le parti satinate, come le parti in plastica della console centrale, sempre la parte satinata della console centrale, quindi è bellissimo, gli interruttori sono impeccabili. Giriamo e andiamo a vedere anche il nostro pannello laterale, ne vediamo uno, ma sono tutte e quattro uguali. Le rifiniture sono anche queste impeccabili, cioè è un abitacolo tenuto veramente molto bene. Poi, un'altra cosa importante da dire, precedente proprietario, non fumatore, quindi non abbiamo il cattivo odore del fumo, non abbiamo i buchi di sigarette sui sedili. Guardate, guardiamo intanto quello del passeggero, poi li vediamo tutti nello specifico. Bellissimo, pulito, profumato. Intanto, andiamo a vedere le dotazioni della nostra vettura. Partiamo dal posteriore, dove troviamo, noi abbiamo in questa vettura, il climatizzatore automatico a tre zone. questa è una zona, la zona posteriore, dove io posso anche, vedete, modificare la temperatura che voglio far arrivare dalle bocchette dell'aria. Andiamo avanti, bracciolo, appoggia gomito, molto comodo per la guida, ancora interruttori, dove abbiamo il freno a mano elettronico, con l'aiuto al freno a mano. Questo è molto importante per le ripartenze e per stare fermo su strada e per le ripartenze naturalmente in salita o in discesa. Leva del cambio S-tronic, quindi il cambio automatico Audi con tutte le sue posizioni, altri interruttori per richiamare delle funzioni, ne vedremo una per uno. Interruttore per il volume dell'autoradio, interruttore per accendere e spengere la nostra Audi Q5 senza mettere le chiavi sul quadro, altri interruttori, il più, diciamo, importante è il drive circuit, quindi pigiando questo sul display appare la nostra macchinina con tutte le funzioni dove io posso modificare, attenzione perché è a tempo, posso modificare lo stile di guida che io voglio dalla mia vettura. Vedete? Vado in fuoristrada, metto la funzione off-road, voglio avere una macchina che teoricamente consuma meno perché efficiency, quindi mi va sulla mappatura della centralina e sul volante nella funzione efficiency, oppure comfort, oppure dynamic, che è lo sport. Queste sono le funzioni che io posso modificare anche in movimento. climatizzatore automatico, quindi vi dicevo a tre zone, la zona posteriore l'abbiamo già vista, zona anteriore sinistra e zona anteriore destra. Dopodiché saliamo ancora, andiamo sul display dove troviamo il nostro menu con tutte le varie regolazioni che io voglio, abbiamo l'audi connet, poi l'autoradio, sempre sul menu vado sulla mia vettura. Sulla mia vettura vado a vedere anche gli assistenti al conducente, quindi per la guida, per la sicurezza. Dove abbiamo l'avvertimento di velocità, l'assistenza all'efficienza, l'audi presence, quindi sempre con i sensori va a verificare, vedete, va a verificare lo stato di ostacoli che abbiamo, il suggerimento di pausa e il sensore pioggia. Questi sono gli assistenti alla guida della nostra Q5. Abbiamo i quattro vetri elettrici, l'interruttore per la regolazione elettrica degli specchietti esterni, con la funzione anche per essere chiusi e aperti elettricamente. Questo è l'interruttore per l'accensione dei fari con la funzione anche automatica, fendinebbia e retronebbia. La levettina per il regolatore di velocità, volante multifunzione. abbiamo anche le palette per il cambio manuale, quindi con la funzione, con la palettina, vedete, vi faccio vedere, con il meno scaliamo le marce, con quella, con il più, aumentiamo le marce, quindi ci viene, oltre che il cambio automatico, anche un cambio manuale. Altri interruttori, un altro importante è il comando vocale. Andiamo poi sul quadro. Bello, luminoso, pulito, completamente funzionante, dove ritroviamo i chilometri. E guardate qua, i chilometri di questa vettura sono 48.944. ritorno, vi ricordo, che sono chilometri certificati dalla sua manutenzione. E andiamo a questo punto a vedere proprio lo specifico della tappezzeria. Guardate che abitacolo, veramente impeccabile. Ora, la tappezzeria è di questo tessuto di colore nero, bella, senza strappi sulle cuciture e sul tessuto, senza buchi di sigarette, perché come abbiamo detto il precedente proprietario non fumava, e poi pulita, perché tutte le tappezzerie delle nostre macchine usate vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. e infatti quando entriamo all'interno del nostro abitacolo l'accoglienza è veramente ottima, eccellente. Guardate anche la parte posteriore, bella, pulita, profumata, il rivestimento del tetto pulitissimo, cioè il nostro abitacolo è veramente eccellente. Osserviamo anche il bagagliaio dove abbiamo intanto il portellone ad apertura elettrica, dove abbiamo il bagagliaio veramente ampio, guardate qua che bellezza, sedile posteriore sdoppiabile e abbattibile per aumentare ancora il nostro vano di carico e poi pulito, perché la mochette, anche la mochette del bagagliaio è stata lavata, igienizzata a vapore come la tappezzeria anteriore. Mentre sotto il pianalino troviamo il suo kit di emergenza per le forature con tutta la sua attrezzatura. Vano motore bello, pulito, proprio bello da vedere anche con tutti i suoi componenti al loro posto a partire dalle plastiche, tubi in gomma, spinette elettriche. Questo perché le nostre vetture usate prima di essere messe in vendita vengono comunque controllate presso il nostro service seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono parecchi punti, svariati punti da controllare uno per uno affinché la vettura sia comunque bella da vedere nel suo meglio logicamente e completamente funzionante a livello meccanico. Questo perché poi sulla vendita ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Le nostre vetture usate hanno la possibilità dei pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni e anche questi vi saranno spiegati in sede. E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. e quindi partiamo per la nostra prova analizziamo un pochino alcuni aspetti prima di tutto la posizione di guida veramente comoda rialzata sedile con la seduta e schienale largo vetro anteriore grande quindi si vede veramente bene la strada e poi i comandi il volante lo sterzo morbidissimo con il cambio ossetroniche la vettura basta schiacciare l'acceleratore parte da sola fa tutto da sola quindi la partenza risulta semplice soffici senza scossoni senza dubbi di conseguenza un'ottima scorrevolezza su strada ottima anche perché guardate qua anche l'assetto lascio un attimino il volante anche se non lo dovrei fare lo lascio vettura va dritta su strada senza nessun rumore sulle ruote e quindi un'ottima scorrevolezza come torno a dire come è ottima l'insonorizzazione dell'abitacolo veramente eccellente cioè qui siamo su una vettura proprio di categoria superiore bella e quindi risulta come si dice sempre bella strinta ok poi con i comandi che abbiamo sul volante è semplice anche la guida perché logicamente da qua io riprendo tutto quello che voglio della mia Q5 spazio interno veramente anche questo veramente tanto abbiamo molto spazio per i passeggeri anteriori molto spazio per i passeggeri posteriori e naturalmente un bel bagagliaio come abbiamo già visto quindi risulta veramente adatta per la famiglia dopo di che andiamo a parlare del motore il nostro motore 190 cavalli col cambio Cetronic è una vettura che è molto pronta all'acceleratore quindi anche quando la guidiamo nei percorsi come in questo caso nei percorsi cittadini risulta una vettura molto facile da guidare agile scattante semplice ma con il motore 190 cavalli anche il meglio di sé dove lo dà sul percorso diciamo extraurbano sulle strade più veloci scorre su strada che è una meraviglia perché col cambio automatico troviamo sempre la marcia giusta vedete si guida proprio con molta semplicità e la visibilità diciamo sulla strada è veramente eccellente vi ripeto che la vettura è già disponibile per essere vista e provata quindi vi aspettiamo presso il nostro punto vendita e dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla Q5 che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi sui social facebook e instagram al nostro indirizzo sani cucecche ora questa Q5 è già disponibile quindi potete già venire a vederla insieme anche a provarla su strada che è molto importante la prova su strada sulle macchine usate oppure telefonate ai nostri numeri o mandate un messaggio su whatsapp sempre ai nostri numeri vi sarà comunque risposto a tutte le vostre richieste un grazie per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie a tutti Grazie a tutti.